Con l'innalzamento della vita media aumentano anche i problemi alle articolazioni. Nell'ospedale di Mondovì, ortopedici da tutto il Piemonte hanno partecipato a una giornata di formazione con un intervento all'avanguardia, in diretta dalla sala operatoria. Un intervento di protesi totale di ginocchio a menisco mobile, che è uno dei tanti tipi di protesi che noi utilizziamo da parecchio tempo, visto che ha dato buoni risultati, anche se le ultime sono aggiornate per assomigliare sempre di più a quello che è l'articolazione normale di un ginocchio. L'operazione è stata inserita nel programma intenso del corso di formazione dedicato alla chirurgia del ginocchio. Vengono fatti degli studi molto accurati per studiare il tipo di intervento che va fatto su misura al paziente per ridare quello che nel tempo le malattie o i traumi hanno deteriorato. La formazione è stata promossa da SOTOP, società ortopedici traumatologici ospedalieri del Piemonte. Le protesi sono un intervento impegnativo, importante, che viene dedicato alla cura delle malattie degenerative o infiammatorie dell'articolazione del ginocchio, quando l'articolazione del ginocchio non può più essere salvata o trattata con delle cure che vengono chiamate, dal nostro punto di vista, conservative. Quando il danno è importante è necessario sostituire il ginocchio con una protesi, totale o parziale. Paradossalmente è più complesso sostituire parzialmente l'articolazione che non sostituirla tutta, perché quando noi dobbiamo fare una sostituzione parziale dobbiamo integrare questa piccola protesi con il resto dell'articolazione.